Avevo il sogno di costruire una collana che raccogliesse le parole di quegli autori che per scriverle avevano pagato il prezzo più alto, quello della vita, quello della persecuzione. E così nasce Munizioni, con questo sogno di difendere parole che il lettore può decidere, e solo il lettore può decidere di non far morire.